Ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, troviamo coda in uscita a Firenze Sud, provenendo da Bologna, per traffico intenso. Verso Sud, rallentamenti inoltre per un trasporto eccezionale tra BV1 Variante e Calenzano. Carreggiato opposta, troviamo coda per traffico tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, tra Firenze Impruneta e BV11A1 e tra Calenzano e BV1 Variante. Ci spostiamo sulla Firenze Mare, dove restano rallentamenti e code per traffico verso Firenze, tra Prato Avest e BV11A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Infipilicode a tratti per traffico tra Ginestra e Firenze Scandicci verso il capoluogo. Per le statali restano 3 km di coda per incidente sul raccordo Siena-Firenze, tra Colle Valdelsa Nord e Colle Valdelsa Sud in direzione di Siena. Prima di salutarci per il traffico ferroviario, informiamo che le biglietterie di Aulla, Montecatini Centro e Pescia quest'oggi sono chiuse al pubblico. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!